Dopo due mesi dall'insediamento del nuovo amministratore delegato e dopo il Consiglio di amministrazione che ha aumentato il capitale sociale a 580 milioni di euro, Ansalda Energia si presenta con nuove prospettive sia nel proprio core business che nelle tecnologie di prossima generazione. In questo momento dobbiamo prima di tutto stabilizzare e migliorare i settori tradizionali che appunto sono il termico e il nucleare e poi il green tech, ovviamente questo rappresenta al futuro e lì si tratta di fare gli investimenti giusti, di crederci, di investire in tecnologia ed essere pronti per quando queste tecnologie saranno veramente industrializzabili. Le turbine a gas possono lavorare oggi a idrogeno in miscela e alcune nostre tecnologie come la GT36 e la 26 sono pronte per l'idrogeno al 100%, il problema in questo momento è la produzione dell'idrogeno e noi puntiamo in questo momento su tre tecnologie principali che sono la batteria CO2, sono gli elettrolizzatori di tipo SOEC e sono le batterie a flusso, queste sono le nostre principali tecnologie che vogliamo sviluppare. Ripeto, sono tecnologie che ad oggi sono a livello di licenza, il nostro compito, ciò che sappiamo fare è industrializzarle, cioè renderle commerciabili e poterle produrre su larga scala. Spazio e idee anche per il nucleare, per cui Ansaldo ha già diversi mercati europei attivi. Fa molta paura al nucleare, è un fatto, però secondo me bisogna guardare a questa tecnologia, soprattutto ai nuovi, a quella di quarta generazione, i nuovi SMR, quindi reattori modulari di piccola taglia, con occhi diversi e imparare a guardare anche i numeri e le statistiche dicono che il nucleare non è pericoloso, non è una tecnologia che è pericolosa, se gestita ovviamente da persone coscienti che la sanno gestire. In Italia, non solo in Ansaldo, abbiamo queste expertise, queste competenze. Nel recente consiglio di amministrazione è stato presentato anche un nuovo piano industriale che mira ad aumentare gli ordini e ad ottimizzare tutta la filiera. L'obiettivo è vendere di più. Io oggi ho un piano che prevede 4-5 macchine, diciamo, le turbine a gas all'anno, è un piano conservativo che può essere migliorato. Ottimizzazione, più attività sul mercato, più coraggio nel quotare, anche cose che sembrano non a nostra portata perché ci sono le competenze, c'è la tecnologia e c'è la domanda. Prospettive di crescita ed ampliamento però che non trascurano la forza lavoro. La cassa integrazione è un qualcosa in cui si ricorre malvolentieri. I numeri oggi ci dicono che è un qualcosa che non stiamo contemplando per il 2024, quindi dobbiamo tenere la barra dritta, cercare di migliorarla perché io preferisco sempre mettermi in sicurezza e secondo me c'è futuro.